Allora, se domani si vince Appoggi Bonsi, io prendo l'impegno solenne di buttarmi nel lema entro il 29 di gennaio di corrente anno. Ero uno di quelli che per i grassi non sono sempre stato, di fatto l'anno scorso, quando si vinse il campionato, una delle poche cose positive dissi perlomeno non c'è il rischio di rigiocare Appoggi Bonsi per la Befana, ora invece il destino è stato così crudele di rigiocare Appoggi Bonsi per la Befana. La disgrazia è ancora più grossa che quelli dell'Alba Longa, un anno fare già all'ultimo minuto, nonostante le numerose occasioni, e quindi mi ritocca fare questa bischerata di tuffo nell'EMA per il 6 di gennaio. Anche quest'anno, vittoria Appoggi Bonsi per la Befana e anche quest'anno, meglio Tullo che Mugiano. Giorno Giorno! Oh! 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 Un saluto a tutti i tifosi, a giocatori e specialmente a qui il disgraziato Di Calosi che gli ha fatto go e mi ha costretto a questa cosa che stanno. Ciao! 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 Ciao!